Chi pensa che l'avvocato matrimonialista si occupi soltanto di separazione e divorzi è fuori strada. L'avvocato matrimonialista, familiarista, divorzista, come preferite, invece si occupa di tante altre discipline, materie e questioni, anche di successioni, proprio dal primo libro, famiglia e successioni. Ed è evidente che debba avere un approccio specialistico e multidisciplinare, tanto è vero che all'interno degli studi regali più importanti, che si occupano di diritto di famiglia o di diritto delle relazioni familiari, ci sono psicologi, psichiatri, mediatori familiari, sociologi, pedagogisti, perché solo così si cresce, cioè non si può pensare a un diritto di famiglia a compartimenti stanni, non si può pensare ad un avvocato che possa risolvere da solo questioni che ha bisogno di altri saperi o di saperi altri. E soprattutto l'aspetto più importante dell'avvocato matrimonialista è la capacità di entrare in empatia col proprio assistito e la capacità anche di aggiornamento e adeguamento dei propri mezzi e strutture, perché lo studio legale è comunque una vera e propria azienda, che ha bisogno appunto delle proprie regole, della propria organizzazione interna. L'avvocato matrimonialista è anche, in molti casi, un avvocato che si occupa di diritto internazionale della famiglia. Non dimentichiamo i matrimoni misti anche tra italiani e cittadini stranieri che si trovano all'estero, o comunque le sottrazioni internazionali dei minori, che sono in costante aumento. È evidente quindi che la completezza dell'avvocato matrimonialista è sicuramente la caratteristica principale di questa figura professionale che è un po' a sé stante nel panorama forense. Il diritto di famiglia è la materia sicuramente più complicata, più drammatica, più difficile, perché riguarda la carne viva delle persone. Non ci occupiamo di cose, ma ci occupiamo di cuori spezzati, di bambini contesi. E credo che la cosa più importante per un avvocato che si occupa di questa materia e soprattutto la serenità, la capacità di entrare in empatia con i propri assistiti, la capacità di mediare e trovare degli accordi. Sappiate che un avvocato vero che si occupa di questa materia non è un avvocato urlatore, non è un avvocato che pensa di vincere urlando, barando o inventando false accuse. Noi abbiamo una responsabilità sociale enorme, perché abbiamo in mano la vita e la sorte, il futuro di tantissime famiglie.